L'Inter per 1-0 e rende un favore al Napoli che porta a 4 punti in vantaggio sui nerazzurri. Senza lo squalificato Giannini, sostituito da Desideri, la Roma ha cercato fin dall'inizio di prevalere a centrocampo e c'è riuscita. L'Inter invece ha risentito in attacco dell'assenza di Rummenigge, sostituito da Garlini. Comunque, come vedremo, a qualche occasione i nerazzurri l'hanno pure avuta, ma l'hanno sprecata. Dopo mezz'ora di gioco a centrocampo la Roma va in vantaggio. Conti serve Gerolin, cross per la testa di Bergen, che batte Zenga. La reazione dell'Inter è quasi immediata. Al trentacinquesimo Matteoli lancia Altobelli e Tancredi deve uscire dall'area per anticipare di piede il centravanti della Nazionale. Poi, quasi allo scadere del primo tempo, Zenga si salva in angolo sul tiro di Desideri. Nella ripresa l'Inter parte subito in avanti e un tiro di Fanna finisce a lato. Quindi una conclusione di Conti mette in difficoltà Zenga e Pruzzo non riesce ad approfittarne. Al diciannovesimo Tardelli rileva Garlini, ma è ancora Zenga, due minuti dopo, che deve salvarsi in angolo su un gran tiro di Nella. Al venticinquesimo Tardelli ci prova dal limite, ma Oddi devia in angolo. Alla mezz'ora Agostini sostituisce Conti subito dopo sul cross di Nella, testa di Bergen per Pruzzo, che viene anticipato da Ferri. L'Inter si spinge ancora avanti, ma Altobelli non riesce ad agganciare un servizio di Fanna in aria. A tre minuti dalla fine Bergen, dopo una discesa sulla destra, manda la palla a sferare il palo, mentre Righetti rileva Pruzzo. E allo scadere del tempo, Altobelli, da due passi, spreca la migliore occasione di una partita, che Giovanni Trapattoni giudica così. A Roma era anche un risultato che ci stava, non abbiamo nulla da recriminare, perché oggi la Roma ha meritato di vincere, quindi dobbiamo rivedere semmai il nostro atteggiamento del primo e del secondo tempo, per evidenziare quelli che possono essere i margini di miglioramento. Quattro punti dal Napoli sono parecchi? Sì, sono parecchi, perché questa squadra, poi vincendo come non so ancora come, però se ha vinto fuori casa, è significativo che, come vado dicendo da tempo, questa squadra è la più equilibrata, è la più lineare. Però ci sono ancora i confronti diretti, quanto è successo oggi, come giornata, può succedere anche in futuro, non bisogna mai mollare.